un saluto a tutti i videoascoltatori di italia medievale oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da viella dal titolo palermo ebraica spazio urbano cultura e società nel medioevo di giuseppe mandalà e angela scandagliato e noi abbiamo il grande piacere di avere con noi giuseppe mandalà al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci racconti di questa meravigliosa palermo ebraica quindi a lei la parola prego innanzitutto ringrazio il dottor cali per questo invito a intervenire che insomma vi molto mi onora e farò una breve presentazione di questo volume e cominciando col dire che è un volume che non nasce dal nulla nel senso che è il punto di arrivo di una riflessione storiografica riscoperta degli ebrei sicilia che si porta avanti sin dagli anni 90 in verità la storia è ben più antica già sul finire dell'ottocento esisteva una vera e propria scienza del giudaismo siciliano che vede un suo focolare nella società siciliana per la storia patria di palermo e in particolare i suoi corifei nei fratelli lagumina bartolomeo e giuseppe lagumina bartolomeo e giuseppe lagumina insieme ad altri studiosi gli onti starrabba isidoro carini solo per citarne alcuni riscoprono attraverso la documentazione conservata negli archivi siciliani e in particolare nel grande archivio di stato di palermo la presenza degli ebrei in sicilia e tra 1884 e 1895 consegnano all'estante il codice diplomatico dei giudici di sicilia che è un'opera monumentale per l'epoca che offre una storia documentata cioè attraverso i documenti un'edizione di testi sostanzialmente curati filologicamente e paleograficamente sia bartolomeo e giuseppe oltre a essere degli ecclesiastici entrambi i vescovi in particolare bartolomeo vescovo di egregento per oltre trent'anni erano paleografi e studiosi di storia medievale assai competente su questa parentesi storiografica che non ha niente da invidiare alla scienza del giudaismo che contestualmente si sviluppava in germania nello stesso periodo e che ha un prosieguo che ben conosciamo in sicilia cala un poco il sipario fino a che nel 1992 non si ricorda si celebra forse la parola celebrale e impropria il quinto centenario della espulsione della cacciata degli ebrei dalla sicilia così come da tutti i regni della corona ispanica determinata da stradinando il castolico e isabella di castiglia e in questa occasione diciamo così sfilano i principali studiosi e le principali ricerche che riguardano la storia degli ebrei sicilio e si presenta il grande progetto del professor shlomo simonson decano e rettore dell'università di telavis che ci ha lasciato nel 2019 e in cui diciamo così il professor simonson attraverso il progetto italia judaica si fa carico di presentare in un corpus anche qui di storia documentaria di storia attraverso i documenti cioè l'edizione di testi documenti la storia degli ebrei di sicilia e questa operazione culturale prende forma con il primo volume della storia degli ebrei in sicilia di simonson nel 1997 e termina nel 2010 consegnandoci ben 18 volumi di documenti 18 corposi volumi di documenti che arricchiscono notevolmente il patrimonio documentale assemblato nell'ottocento dai fratelli latino nel 2011 sempre per la casa editrice di ella il professor simonson in italiano pubblica un volume di sintesi anche questo abbastanza corposo o sarei dire monumentale tra scilla e carilli e delinea la storia degli ebrei in sicilia nella sua complessità ma contemporaneamente nel 2001 un altro pioniere degli studi ebraici in sicilia uno storico di baglia quale il professor anri brez che pubblica un saggio fondamentale che arabi per lingua ed ebrei per religioni segnando anche lui una stagione di riscoperta di e di analisi della documentazione inerente gli ebrei su questo materiale si fonda diciamo così la nostra sintesi diciamo che ha il suo scopo nell'ordinare e nel presentare anche un vasto pubblico questo materiale di conostra perché il volume è opera mia e della compianta angela scandadiato grande studiata degli ebrei in sicilia che ci ha lasciato il 12 settembre del 2020 detto questo diciamo potremmo anche sottolineare sin dall'inizio un piccolo paradosso cioè io sono un professore di storia dei paesi islamici e insegno storia culturale del mediterraneo all'università statale di milano e ci si potrebbe chiedere soprattutto guardando e sfogliando i giornali e dando un occhio al medio oriente contemporaneo perché un professore di storia dei paesi islamici debba interessarsi alla storia degli ebrei apparentemente islam ed ebraismo sono oggi nella cronaca due religioni o più latamente due culture un conflitto ma ciò diciamo così non avviene nel medioevo siciliano abbiamo degli episodi di conflitto che ci che emergono dal più o meno velatamente da alcune fonti ma la storia degli ebrei in sicilia è in larga parte una storia pacifica una storia pacifica che a palermo inizia però con un conflitto nel 598 e grazie alle lettere di gregorio magno sappiamo che il papa obbligo il vescovo di palermo vittore aveva confiscato i beni e le sinagoghe degli ebrei di palermo tramite il defensor fantino il papa obbliga a una restituzione a un risarcimento dei beni tolti agli ebrei a parte questo piccolo spot questa luce che diciamo così illumina sui inizi della comunità ebraica palermitana non sappiamo molto per i secoli che riguardano la tarda antichità e tutto l'alto medioevo la documentazione si illumina improvvisamente ed ecco qui andiamo al punto del perché un professore di storia dei paesi italiani debba interessarsi alla storia degli ebrei si illumina improvvisamente grazie alla documentazione conservata nella genizza di fustat il cairo vecchio in egitto che cos'è la documentazione di fustat della genizza del cairo è un ambiente della sinagoga di ibn ezra tuttora esistente visitabile acquistata al cairo vecchio che raccoglieva in un deposito non in un archivio un deposito il materiale scritto essenzialmente in lettere ebraiche ma non necessariamente in lingua ebraica poteva essere anche la lingua araba scritta in lettere ebraiche ad esempio detto questo perché perché le lettere ebraiche hanno un valore sacrale e rimandano direttamente al messaggio divino diciamo così e quindi non possono essere distrutte questo materiale venne accumulato nel corso dei secoli fino a che nel 1896 venne riscoperto e studiato per primo dal rabbino schlomo schecter professore all'epoca all'università di cambridge questo materiale venne venduto e sparpagliato nelle principali collezioni europee ma anche d'oltreoceano e rappresenta un vero e proprio tesoro documentale che ha nella sua riscoperta delle varie fasi storiografiche una prima riscoperta riguarda quella dei testi biblici cioè di testi biblici che non erano stati tramandati nella loro versione originale in ebraico in particolare mi riferisco al siracide che si conosceva solo attraverso la versione in greco e che grazie ai documenti ai testi e ai manoscritti della genizza viene riscoperto nella sua versione ebraica una seconda fase nella prima metà del novecento riguarda invece la scoperta della grande poesia ebraica i poeti di al andalus come dunash ben labrat o giù dalle vita gli erudali e una terza fase nella seconda metà del novecento riguarda la storia sociale del mediterraneo cioè ci si accorge che nella genizza oltre a testi letterari per i sacri per i poetici esisteva una mole enorme di archivi privati di mercanti o di documenti utili a una storia sociale della comunità ebraica dell'egitto patinide e questa diciamo riscoperta ha un suo eroe che il professor shlomo dob goitain che ci ha lasciato una monumentale storia mediterraneo society che riguarda una ricostruzione della vita ebraica nel mediterraneo ma anche oltre nel età patinide tutto questo ovviamente ha rappresentato una grande rivoluzione in quanto ha diciamo scardinato la ricostruzione della storia islamica mediterranea dal apparente assenza di archivi non abbiamo grandi archivi nel mondo arabo-itlanico o quantomeno la documentazione conservata negli archivi parte da un'epoca della prima età moderna diciamo soprattutto e ci restituisce la complessità appunto di un mediterraneo fatto gli scambi di relazioni di navigazione di spostamenti per mare e anche di migrazioni in tutto questo palermo è al centro della società mediterranea e della società della genizza così come viene chiamata comunemente dagli studiosi del settore in quanto la sicilia forma parte di un triangolo commerciale che dall'egitto tocca la tunisia che all'epoca veniva chiamata i fritti e giunge ai porti siciliani in particolare a mazzara sulla sponda sud e a palermo sulla sponda nord questa ricchezza di dati ci porta anche a una riflessione dicevamo arabi per lingua ebrei per religione perché il periodo islamico attraverso la documentazione a noi pervenuta è un periodo altamente formativo per la identità culturale degli ebrei sicilio che va ben oltre il periodo della dominazione islamica che termina come tutti sappiamo con la conquista di palermo nel 1072 da parte dei normanni e la conquista definitiva di noto nel 1091 perché perché fino all'espulsione del 1492 93 gli ebrei di palermo e della sicilia mantengono una forte impronta dettata dalla arabizzazione cioè dal fenomeno di acculturazione in senso culturale non necessariamente religioso in questo caso parleremmo di islamizzazione ma questo implica un cambio di religione ed è un altro discorso invece una acculturazione che consente agli ebrei di palermo e della sicilia una padronanza e una gestione della lingua parlata araba lingua parlata e lingua scritta un'onomastica fedele ai modelli arabi e anche in parte innovatrice cioè anche dopo innova e modifica e anche tutta una serie di usi e costumi che risalgono al periodo della arabizzazione uno per tutti ad esempio il matrimonio endogamico per via patrilineare cosiddetto di tipo arabo ecco per cui un'impronta un uso di quello che tecnicamente viene chiamato giudeo arabo e che non è altro che la lingua araba media in medio arabo parlato e poi anche scritto in caratteri ebraici e che risulta da ad esempio tutta la corrispondenza commerciale che gli ebrei di palermo e più in generale di sicilia hanno intessuto in quel triangolo commerciale un triangolo commerciale però che attraverso il mare rosso aden giunge fino all'india e alle coste del malabarco quindi uno scenario più ampio che riguarda appunto una dimensione spaziale che trascende il Mediterraneo stesso ecco perché il mio interesse nei confronti degli ebrei di Sicilia e di Palermo ecco perché l'interesse nei confronti della Keniza e degli studi giudeo-arabi ma forse possiamo anche passare avanti diciamo parlando di qualche altro argomento ad esempio ad esempio non so dottor Cadì forse vuole abbiamo poco tempo chiudiamo va bene chiudiamo qui beh no io starei ore però gli utenti di youtube sono maledetti guardano poco le cose lunghe quindi va bene va bene spero di essere stato chiaro insomma sì sì no certo l'argomento è decisamente interessante e anzi io invito tutti a correre in libreria a comprare Palermo ebraica spazio urbano culture e società nel medioevo appena pubblicato da Viella di Giuseppe Mandalà e Angela Scandagliato e noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi Giuseppe Mandalà che ce ne ha parlato e che ringraziamo tantissimo e io ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le nostre video presentazioni realizzate fino ad oggi quindi grazie e alla prossima grazie a voi grazie a lei una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti